È proprio il regalo sotto l'albero per tanti residenti degli alloggi del progetto Case dell'Aquila. I bollettini, o forse sarebbe il caso di dire i bollettoni, per i consumi arretrati del gas metano, per il riscaldamento e l'acqua calda, sono cominciati ad arrivare nelle cassette delle poste. Una cartolina di auguri di fine anno un po' amara, un regalo indigesto perché in centinaia di casi si tratta di una stangata per i cittadini, costretti a pagare gli arretrati da gennaio 2017 perché non sono stati conteggiati dalla loro amministrazione comunale. In molti dovranno pagare ad esempio da 600 a oltre 1000 euro per il primo semestre da gennaio a giugno 2017, in attesa della seconda stangata, quella relativa al semestre successivo. L'amministrazione guidata da Pierluigi Biondi, che ha tra l'altro defenestrato l'assessora forzista al bilancio, Annalisa Di Stefano, ha diviso le cifre in rate mensili. Dunque, se nel primo semestre tra la quota ordinaria e il conguaglio la cifra si aggira ad esempio sui 1000 euro, sono stati emessi 7 bollettini da circa 140 euro ciascuno. Nell'ingarbugliata gestione dei pagamenti però si inserisce un'altra complicazione. L'azienda, che ha l'incarico di stampare le fatture emanate dal comune e non dall'Enel, ha fatto un errore. C'è un dato sbagliato nel codice a barra in fondo a destra alla bolletta, che riporta una cifra diversa da quella che effettivamente bisogna pagare. Questo significa che gli uffici postali e le tabaccherie abilitate non possono accettare il bollettino. L'unica soluzione è che l'operatore inserisca a mano la cifra giusta. Il comune sta facendo ristampare i bollettini corretti per poi rispedirli di nuovo agli utenti. A proposito, con quale aggravio di spesa per la seconda spedizione? E quindi la prima rata in scadenza, lunedì 31 dicembre, potrebbe ulteriormente slittare.